sonia bruganelli e angelo madonia la verità sulla loro relazione sonia bruganelli e angelo madonia sono ancora fidanzati o si sono lasciati questa è la domanda che ha iniziato a circolare dopo le dichiarazioni della bruganelli a domenica in durante l'intervista con mara venier sonia ha spiegato che in questo momento della sua vita deve capire cosa vuole veramente e solo dopo potrà dedicarsi ad un'altra persona queste parole hanno fatto pensare che la relazione con il ballerino non stesse attraversando un buon momento la bruganelli ha dichiarato devo capire cosa voglio dalla mia vita altrimenti faccio solo morti e feriti voglio vivere per quello che sento cercando di essere un punto di riferimento per i miei figli ha anche espresso un senso di colpa per aver interrotto il matrimonio con paolo bonolis senza gravi motivi tuttavia sia sonia che angelo hanno smentito i rumors sulla fine della loro relazione le segnalazioni riguardo alla cancellazione delle foto di coppia dai loro profili social sono state smentite in quanto non avevano mai pubblicato immagini insieme madonia ha chiarito che la love story con la bruganelli continua e che non c'è stata alcuna rottura sentimentale durante l'intervista sonia ha parlato anche del suo ex marito quindi al momento la relazione da sonia bruganelli e angelo madonia sembra essere ancora solida grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti